Alessia Iezzi, ma che hai combinato in India? Eh, ho fatto una bella cosa. Era parecchio tempo che non riuscivo a uscire da un'annata un po' complicata. Con questa gara mi sono portata a casa una bella vittoria, che è la terza in ordine crescendo dalle Olimpiade, poi c'è il campionato del mondo, che è il cosiddetto mondiale, e poi c'è la finale di Coppa del Mondo. E quindi è una gara molto, molto importante. Tra l'altro hai ottenuto questo risultato quasi a conclusione di una stagione che non ti aveva soddisfatto. Sì, in effetti, come dicevo prima, questa stagione è andata malissimo, praticamente, e con questa, che praticamente era l'ultima gara, mi sono riportata su come niente. E per me è molto, molto importante in vista delle Olimpiadi di Tokyo, perché da quest'anno ci saranno i primi passi per l'Olimpiade, e speriamo bene. Hai fatto tanti ringraziamenti, il tuo CT, il tuo fidanzato, la tua famiglia, no? Vabbè, insomma, li ribadiamo. Ma questo 2018, invece, come è cominciato? Cioè, come ti senti adesso? Perché risvegliarsi dopo una vittoria mondiale non è semplicissimo. Sì, allora, io ho riniziato da poco la mia stagione, perché mi sono presa prima un piccolo momento di pausa, e poi mi sono ammalata con questa influenza che gira in questo periodo, e ho ripreso la grande, devo dire, sia per quanto riguarda la preparazione fisica, sia per quanto riguarda il tiro. A febbraio ci sarà la prima gara, che è un Grand Prix internazionale in Qatar, dove metterò in prova quello che ho fatto fino adesso. Tutti ti vogliono, tutti ti cercano, insomma, adesso forse cambia davvero il mondo di Alessia Iezzi, sempre rimanendo concentrati sull'obiettivo. Sì, soprattutto con i piedi a terra, perché è vero che ho vinto una gara molto importante, però per me non è un momento di relax, anzi, deve essere un motivo in più per incentivarmi a fare molto, molto di più, in quanto a settembre ci saranno le prime carte olimpiche e voglio arrivare pronta.